Sono di? Latina, lo sappiamo. Come? Come? Tiziano Ferro, che tu conosci. Volevo dire qualcosa di più, tipo Martufello. Ma tu Tiziano lo conosci, no? No, non lo conosco. Ma sì, l'ha incontrato una volta mentre mangiavi la pizza. La pizza, sì, esatto. E? Che ti ha detto? Andiamo a fare questa scenetta. Intanto lui ti conosceva? Sapeva che eri Calcutta o non eri ancora Calcutta? No, no, non lo sapeva, era tanto tempo fa. No, ero in questo forno notturno, c'era la cassiera che mi vedeva ogni tanto lì, ormai aveva un po' di confidenza, saranno state le due di notte, le tre, e mi fa ma che sei, sei triste così che c'hai? Io ero normale invece, però comunque non ho proprio una faccia allegra, ho poi gli occhi all'ingiù, capito? Fa sei triste, che c'hai? Se gira questa persona, e poi ci ho messo anche qualche secondo per riconoscere bene, mi fa ma lascia perdere donne, mi disse questa cosa. E tu come l'hai interpretata? Era Tiziano Ferro ovviamente, questa era la cosa. E io non mi ricordo, ho detto, ok, non so che ho detto. Cioè perché di per lì mi ha lasciato un po', no, sembrava una candid camera comunque, scritta da uno simpatico comunque come cosa. Ma a te piace lui quello che fa? Sì, mi piace, mi piace. È molto bravo, un grande professionista. Mi ha portato un po' di soul, nel proprio italiano.